Uros, una grande, una grandissima vittoria con tantissima determinazione per la Calciadone Verona. Una vittoria che è lunga la serie e ora si fa a Gera 4. Sì, secondo me la più bella vittoria di ultime, non lo so se, da tua partita è stata contro Perugia, perché tutti sappiamo che Perugia gioca adesso un pallavolo straordinario, perché giocano molto forte e sono in forma. Sono molto felice perché abbiamo vinto stasera, abbiamo dimostrato che noi anche sappiamo giocare pallavolo in alto livello e sono molto contento. È stata una partita un po' delle due facce perché soprattutto dopo il quarto set vinto da Perugia, il break iniziale di Perugia al tie-break, insomma il pubblico ha tremato un po', poi invece è venuto fuori la tecnica e il gioco della Calciadonia. Sì, era 4-0 dopo la challenge, era 3-1, 3-2, eravamo proprio, se perdiamo 4-0 dopo non riprendiamo più, perché la partita finisce così, se arrivi così male, se parti così male il tie-break, però a noi è stata fortuna nostra, perché era challenge di noi, era 3-2 e dopo abbiamo giocato secondo me meglio in tie-break, molto in ricezione, in attacco, soprattutto in muro, abbiamo giocato oggi molto bene, sono molto contento, soprattutto a me, che non ho fatto l'ultimo muro, ho fatto in dicembre, allora sono molto contento proprio tanto. Alla fine il pubblico si è lasciato andare in un boato che veramente ha fatto tremare il pavimento del palazzetto. Sì, a me mi piace perché si pubblica divertita e questo è molto importante, perché se vengono devono andare a casa felici, soprattutto perché se vinciamo, però abbiamo dimostrato un grandissimo pallavolo e il pubblico ha aiutato tanto a noi, perché era il nostro settimo giocatore e basta, andiamo e spero che arrivino tanti anche a Perugia per supportarlo, perché bisogna il nostro pubblico.